Il fenomeno in città dei furti sta subendo un'altra ondata considerata allarmante dai cittadini. I ladri sono stati di nuovo in azione a San Giacomo. Sono giorni ormai che furti o tentati furti si rinnovano in città, riportando l'attenzione alta su questo fenomeno considerato molto fastidioso dai cittadini. A San Giacomo i ladri hanno rubato o tentato di rubare in almeno tre villette a schiera, in due vie diverse, a pochi metri l'una dall'altra. In molti dei casi sono stati messi in fuga direttamente dai proprietari. Nei giorni scorsi erano stati registrati altri furti o tentati nel quartiere Aquilano del Torrione, a ridosso del centro, a Pettino, dove i ladri erano riusciti a portare via dell'oro da un'abitazione, ma anche a Paganica, Civito di Bagno e Monticchio. Anche in via con le sapone il bottino era stato abbastanza consistente rispetto agli altri, oggetti di tecnologia, macchina fotografica, televisore, ma anche soldi in contanti e abbigliamento. Il fenomeno è molto sentito dai cittadini che chiedono maggiori sicurezza. I controlli da parte delle forze dell'ordine sono sempre capillari, probabilmente verranno anche intensificati in questo periodo, ma rimane il fatto che l'Aquila è una città profondamente cambiata dopo il terremoto, più difficile da controllare. L'invito comunque rimane quello di denunciare questi fenomeni, così da fare avere alle forze dell'ordine anche un quadro preciso dell'effettiva situazione. Ora ovviamente le indagini degli investigatori sono rivolte a capire se ci siano cani sciolti, cioè se si tratti di episodi occasionali, oppure se ci sia dietro una vera e propria banda dedita ai furti in città.